La descrizione è troppo come vista Hai chiuso te? Sì, ora chiedo lo sportellino Sì, ho chiesto ancora un'altra Quando siamo in giro Fatti Allora, Mario acceso Borgo Radio, Whisky India, notifica il volo Filosa Gerardi più uno, volo in valle Vento praticamente a zero Per noi non mi ne avevo Sono comodissimo Sono comodissimo Ciccio, buon divertimento Grazie altrettanto Ho pochi dubbi Cavo teso, all'ante pronto A discrezione E' molto bello grazie fantastico qua abbiamo dei handi per l'atterraggio d'emergenza si 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 che bello cazzo ahahah mi fermi eh dai l'aria è un po' viva ora eh 50 qui Giochino è come un caccia devi tenere le ali come lui davvero che bello leggermente la punta verso l'ala esterna e la dirà bello giallo ma ci vedo guardalo che c'è? moto chi veste? no sembrerebbe moto no 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 c'è le macchine si la compito uno qui ah si? ah sembra moto poi per le moto c'è il tempo fammi vedere tutto questo giallo il campo davanti a noi a sinistra lo vedi? si si non è stiamo a giocando mezzo ancora nessuna abitaglia nella tenda eh, vedi già mezzo, vedi già una parte di sole dai e se metti da più 5, dentro no, è prestato per ora c'è il daino che fa casino no, no, no